Curro, il giovane protagonista della promessa, si trovava in un momento cruciale della sua vita. Nei prossimi episodi avrebbe deciso di affrontare Manuel, il marchesino con cui aveva condiviso un legame profondo e complesso. La tensione era palpabile, mentre Curro si preparava a rivelare un segreto che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Con il cuore in tumulto si avvicinò a Manuel e con voce tremante disse, Manuel c'è qualcosa che devi sapere, è tempo di essere onesti l'uno con l'altro. Cosa accadrà quando Manuel scoprirà di avere un fratello? La tensione nell'aria era palpabile e il cuore di Manuel batteva all'impazzata, mentre Curro, visibilmente in ansia, si preparava a rivelare un segreto che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Cosa intendi dire? C'è qualcosa che non va? chiese Manuel, la voce tremante per l'incertezza. Curro si fece coraggio, il suo sguardo determinato ma carico di emozione. Tu ed io siamo fratelli, pronunciò con fermezza, come se ogni parola fosse stata forgiata da un destino ineluttabile. La confessione colpì Manuel come un fulmine a ciel sereno, lasciandolo completamente sconvolto. Un turbinio di emozioni lo travolse, incredulità, confusione e, inaspettatamente, una nuova gioia si accese nel profondo del suo cuore. L'idea di avere un fratello, qualcuno con cui condividere non solo il sangue ma anche i sogni e le paure, era un pensiero che lo riempiva di entusiasmo. Manuel si ritrovò a riflettere su tutto ciò che questa nuova realtà significava. Non solo Curro era il suo fratello, ma anche Iana, la ragazza che entrambi amavano, sarebbe diventata parte di questo legame indissolubile. I tre ragazzi avrebbero finalmente potuto abbandonare i segreti e le incertezze che avevano caratterizzato le loro vite fino a quel momento. Insieme avrebbero affrontato le sfide del futuro, costruendo una connessione profonda e autentica. La loro unione sarebbe diventata più forte che mai, come una catena d'oro forgiata dalle esperienze condivise. Immaginando i momenti futuri insieme, risate, avventure e anche le inevitabili difficoltà, Manuel sentì crescere dentro di sé una determinazione nuova. Era pronto a scoprire non solo il legame fraterno con Curro, ma anche a esplorare la bellezza dell'amicizia con Giana. In quel momento cruciale, Manuel comprese che la vita aveva in serbo per lui sorprese meravigliose e che il passato non avrebbe mai potuto definirlo. La scoperta della sua vera famiglia rappresentava un nuovo inizio, una pagina bianca su cui scrivere storie di amore fraterno e amicizia indissolubile. Con il cuore colmo di speranza e la mente aperta alle infinite possibilità, Manuel si preparò ad abbracciare questa nuova avventura con Curro e Giana al suo fianco. Nel frattempo, Giana e Manuel stavano progettando il loro matrimonio. Dopo aver affrontato tante avversità erano determinati a vivere il loro amore alla luce del sole. Manuel, iniziò Giana con un tono serio, voglio che il nostro matrimonio sia perfetto, ma prima devo dirti la verità sul mio passato. Riuscirà Giana a superare i fantasmi del suo passato prima di dire sì? Manuel, sempre pronto a sostenere la sua amata, rispose qualsiasi cosa sia affrontiamola insieme. Giana decise di seguire il consiglio della sua amica Maria e si preparò a rivelare a Manuel la sua vera identità. Sono la figlia di Dolores e Curro è mio fratello. Le parole le uscirono dal cuore come un fiume in piena. La confessione scosse Manuel profondamente. Nonostante il turbamento iniziale, la sua determinazione a sposare Giana non vacillò. Non importa chi sei stata, le disse con sincerità negli occhi. Ti amo per quello che sei ora. Mentre i preparativi per le nozze continuavano, Giana raccontò a Manuel la storia della sua vita difficile. La sua infanzia era stata segnata da eventi drammatici e dolorosi. Dopo la morte di mia madre, spiegò con voce tremante, ho vissuto momenti bui, ma tu sei la luce nella mia vita. Come reagirà Manuel quando scoprirà tutta la verità sul passato di Giana? Manuel ascoltava attentamente, comprendendo quanto fosse importante per Giana condividere il suo passato. Con un sorriso rassicurante le disse, sarò sempre al tuo fianco, insieme scopriremo la verità sulla morte di tua madre. Con l'intenzione di non avere più segreti tra loro, Manuel decise di parlare anche con Curro riguardo ai suoi sentimenti per Giana. Si sentiva pronto a condividere ogni aspetto della sua vita con il fratello appena scoperto. Curro iniziò con tono serio ma affettuoso, voglio che tu sappia quanto amo tua sorella. Curro lo guardò negli occhi e sorrise, sono felice per voi due. L'amore è una forza potente. Ma mentre i tre giovani si avvicinavano sempre di più, un'altra verità sconvolgente emerse dal passato. Manuel chiese a Curro di raccontargli tutta la sua storia e il ragazzo non esitò ad essere sincero fino in fondo. Spiegò di aver scoperto che Alonso aveva avuto una relazione con sua madre Dolores dopo la morte della sua prima moglie, Donia Carmen. Con voce ferma ma carica di emozione, Curro rivelò «Io e Giana siamo fratelli, ma abbiamo un padre diverso». Manuel ascoltava attentamente mentre Curro continuava «Tu ed io siamo fratelli», disse infine Curro a Manuel, annullando in questo modo ogni segreto tra loro e creando un legame indissolubile. Tuttavia c'era ancora una questione irrisolta nella vita di Manuel. Era ancora sposato con Ximena. Le puntate attualmente in onda in Italia mostravano come Manuel non potesse vivere liberamente la sua storia d'amore con Giana, perché Ximena era lontana dalla promessa, immersa nei suoi problemi familiari dopo aver dato fuoco alla tenuta in un momento di crisi. La situazione era diventata insostenibile. Ximena stava attraversando un periodo difficile a casa dei suoi genitori dopo aver rischiato di uccidere Catalina durante il suo crollo nervoso. Qualche mese prima Ximena aveva cercato disperatamente di legare a sé Manuel simulando una gravidanza nella speranza che questo bastasse per riavvicinarlo, ma i suoi sforzi erano stati vani. Nulla sembrava poter cambiare i sentimenti del marchesino per Giana. Con l'aiuto di Abel, Ximena era stata costretta a fingere un aborto. Tuttavia neanche il dolore per la perdita di un figlio riuscì a riportare Manuel tra le sue braccia. Al momento nessuno conosceva l'inganno di Ximena, ma presto sarebbe emerso che la donna non era mai stata incinta. Quali conseguenze avrà questa scoperta su tutti i protagonisti? Questo segreto avrebbe segnato la fine della sua relazione con Manuel e l'inizio della libertà per lui. Mentre i preparativi per il matrimonio tra Iana e Manuel proseguivano e i legami tra i tre giovani si rafforzavano ulteriormente grazie alla sincerità e alla rivelazione dei segreti passati, l'aria era carica di aspettative e speranze per il futuro. La strada davanti a loro era irta di sfide e scelte difficili da affrontare, ma insieme avrebbero potuto superare qualsiasi ostacolo. Le anticipazioni sul finale della seconda stagione della sua op opera, La Promessa, rivelano che Manuel e Iana si troveranno costretti a prendere due strade diverse. La loro storia d'amore, che ha appassionato i telespettatori, è destinata a subire un colpo devastante quando i due scopriranno di essere figli dello stesso padre. Questo momento di rivelazione segnerà un punto di non ritorno per entrambi, costringendoli a confrontarsi con una realtà che mai avrebbero immaginato. Manuel e Iana sono due personaggi che hanno conquistato il cuore del pubblico. La loro relazione è iniziata in modo innocente, ma si è rapidamente trasformata in una passione travolgente. Entrambi provano sentimenti profondi l'uno per l'altra e desiderano stare insieme, ma le circostanze della vita sembrano sempre mettersi di traverso. La loro connessione è palpabile e i fan non possono fare a meno di sperare in un lieto fine. La situazione prende una piega drammatica quando Iana trova una foto della madre biologica, Elisa, tra gli oggetti personali di Salvador. Questo ritrovamento le fa sorgere dubbi inquietanti sulla sua identità e sul suo passato. Perché Salvador conserva quella foto? Cosa c'entra con la sua vita? Decisa a scoprire la verità, Iana decide di interrogare Salvador. Quando finalmente affronta Salvador, la tensione è palpabile. Dopo momenti di esitazione e di silenzio carico di emozione, Salvador confessa a Iana di essere il suo padre biologico. Questo momento è carico di emozione. Iana si sente tradita, ma anche sollevata, nel sapere finalmente la verità sulla sua origine. La confessione di Salvador rappresenta un punto cruciale nella trama, poiché getta una nuova luce sulla vita di Iana e sul suo legame con Manuel. Nel frattempo, anche Manuel sta per scoprire la verità sul suo passato. Grazie al racconto di Romulo, apprende che Salvador è in realtà suo padre. Inizialmente Manuel fatica a credere a questa rivelazione. È impossibile, ma quando trova prove concrete che confermano le parole di Romulo, la sua vita viene stravolta. La scoperta lo costringe a riconsiderare tutto ciò che credeva di sapere sulla sua famiglia e sul suo passato. Con la verità finalmente svelata, Manuel e Iana si trovano ad affrontare un dilemma morale insormontabile. Sono innamorati, ma ora sanno che sono legati da un vincolo di sangue. Saranno in grado di superare questo ostacolo o dovranno rinunciare al loro amore? La tensione cresce mentre entrambi cercano risposte e cercano di capire come procedere. Dopo aver compreso la gravità della situazione, Manuel e Iana saranno costretti a dirsi addio. Questo momento sarà straziante. Entrambi sono consapevoli del legame che li unisce, ma anche delle conseguenze della loro relazione. L'addio sarà carico di emozione e tristezza, lasciando i telespettatori con il cuore spezzato. Dopo la separazione, il futuro di Manuel e Iana appare incerto. Entrambi cercano di affrontare il dolore della perdita dell'altro, mentre cercano nuovi significati nelle loro vite. Saranno in grado di ricostruire se stessi dopo questa esperienza traumatica? Le anticipazioni rivelano che entrambi intraprenderanno un viaggio interiore per guarire dalle ferite emotive causate dalla separazione. Le famiglie dei protagonisti giocano un ruolo fondamentale nella narrazione. Le reazioni dei genitori alla scoperta della verità saranno cruciali per capire come si svilupperà la storia. La madre biologica di Iana, Eliza, ha una storia complessa legata al suo passato con Salvador. Quali segreti custodisce? Come influenzerà la vita di Iana una volta scoperta la verità? I genitori di Manuel rappresentano valori tradizionali che entrano in conflitto con le scelte dei giovani protagonisti. Come reagiranno alla scoperta del legame tra i due? Queste dinamiche familiari aggiungono ulteriore profondità alla trama e rendono le scelte dei personaggi ancora più significative. La promessa affronta temi profondi come l'amore proibito, l'identità e le scelte difficili che dobbiamo affrontare nella vita. La storia di Manuel e Giana ci invita a riflettere su cosa significhi davvero amare qualcuno e su come le circostanze possano influenzare le nostre decisioni. Concludendo questo viaggio attraverso le anticipazioni della promessa, possiamo affermare che la serie continua a tenere alta l'attenzione del pubblico grazie ai suoi colpi di scena emozionanti e alle storie avvincenti dei suoi personaggi. Mentre ci avviciniamo al finale della seconda stagione, i fan sono ansiosi di scoprire come si risolverà la situazione tra Manuel e Giana. Riusciranno a trovare un modo per riconciliarsi o saranno costretti a vivere separati per sempre? Le anticipazioni promettono colpi di scena emozionanti che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Inoltre, il percorso verso la guarigione sarà lungo e difficile per entrambi i protagonisti. Dovranno affrontare non solo il dolore della separazione, ma anche le conseguenze delle loro scelte passate. Il viaggio interiore di ciascuno sarà caratterizzato da momenti di introspezione e crescita personale. Inoltre, il percorso verso la guarigione sarà lungo e difficile per entrambi i protagonisti. Dovranno affrontare non solo il dolore della separazione, ma anche le conseguenze delle loro scelte passate. Il viaggio interiore di ciascuno sarà caratterizzato da momenti di introspezione e crescita personale. Mentre Manuel cerca nuove opportunità nella sua vita, potrebbe incontrare nuove persone o scoprire nuovi sogni che lo aiuteranno a ricostruire se stesso dopo questa esperienza traumatica. Allo stesso modo, Yana dovrà affrontare il suo passato e trovare un modo per accettare la verità sulla sua identità. In questo contesto complesso, i personaggi secondari giocheranno un ruolo cruciale nel supportare o ostacolare il percorso dei protagonisti verso la felicità. Romulo rimarrà al fianco sia di Manuel che di Yana, offrendo consigli preziosi nei momenti difficili. La sua op opera La Promessa non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione su temi universali come l'amore, l'identità e la ricerca della verità. I telespettatori si sentiranno coinvolti nelle vite dei personaggi, mentre affrontano sfide emotive profonde. Il finale della seconda stagione si preannuncia ricco di emozioni forti e momenti indimenticabili che lasceranno tutti senza parole. I fan attenderanno con ansia gli sviluppi futuri delle storie d'amore, tra Manuel e Yana, sperando in un possibile riavvicinamento o in una risoluzione sorprendente delle loro vicende. La trama delle prossime puntate della sop opera spagnola La Promessa si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Tutto ha inizio quando Cruz, la marchesa della tenuta, inizia a sospettare che Petra, la sua fidata dama di compagnia, le stia nascondendo qualcosa riguardo alla nascita di Feliciano. Un giorno, mentre passeggiano nei giardini fioriti, Cruz si ferma e guarda Petra con aria interrogativa. Petra, devo chiederti una cosa, dice con voce calma. Petra, sorpresa, risponde. Certo, signora, ditemi pure. Cruz prende un respiro profondo. Ho notato che sei molto legata a Feliciano. C'è qualcosa che dovrei sapere? Petra sente il cuore battere forte. Sa che non può più nascondere la verità. Decide allora di confessare una parte del suo segreto. Signora, devo dirvi la verità. Feliciano non è mio fratello come tutti credono. È mio figlio. Cruz la guarda sorpresa. Tuo figlio? Ma come hai fatto a nascondere la gravidanza? Petra spiega che anni prima era rimasta incinta di un uomo del paese che poi era sparito senza lasciare tracce. Per evitare lo scandalo e proteggere il bambino, aveva deciso di farlo crescere come suo fratello, affidandolo ai suoi genitori. Cruz ascolta attentamente, commossa dalla storia. Tuttavia, Petra omette di dire che Ignacio, il conte di Anil, è il vero padre di Feliciano. Nel frattempo, alla tenuta arriva proprio Ignacio. Il suo arrivo suscita curiosità tra i domestici e gli ospiti. Ignacio sembra nascondere un segreto e il suo sguardo si posa spesso su Petra. Un giorno i due si incontrano nei corridoi della tenuta. Petra, dice lui con voce seria, è passato tanto tempo. Petra lo guarda con occhi tristi. Sì, Ignacio, molto tempo. Ignacio cerca di avvicinarsi. Dobbiamo parlare. Ma Petra scuote la testa. Non qui, non ora. Intanto, Feliciano partecipa a una battuta di caccia organizzata da Cruz e Lorenzo. L'evento, che dovrebbe essere un momento di svago, nasconde in realtà un piano oscuro. Cruz e Lorenzo vogliono sbarazzarsi di Curro, che minaccia di reclamare il titolo di Barone dell'Inagia. Durante la caccia, però, accade l'irreparabile. Feliciano muore per errore. La notizia si diffonde rapidamente, gettando tutti nello sconforto. Petra è distrutta. Non può essere vero, grida tra le lacrime. Decide di lasciare la tenuta insieme a Teresa per partecipare ai funerali. Durante il viaggio, Petra ripensa ai momenti trascorsi con suo figlio, ai sorrisi, alle speranze per il futuro. Teresa cerca di consolarla, ma il dolore è troppo grande. Ignacio, venuto a conoscenza della morte di Feliciano, è sconvolto. Decide di scoprire cosa sia realmente accaduto. Si unisce ad Alonso, un uomo di fiducia alla tenuta, e insieme iniziano a indagare. Non credo sia stato un semplice incidente, dice Ignacio. Dobbiamo andare a fondo della questione. Cruz, nel frattempo, chiede nuovamente a Petra come abbia fatto a nascondere la gravidanza. Petra ripete la sua storia, omettendo ancora una volta il ruolo di Ignacio. Cruz sembra accettare la spiegazione, ma dentro di sé nutre dei dubbi. Le indagini di Ignacio e Alonso portano alla luce dettagli inquietanti. Scoprono che la battuta di caccia era stata organizzata con l'intento di eliminare Curro. Se Cruz e Lorenzo sono coinvolti, potrebbero essere responsabili della morte di Feliciano, afferma Alonso. Ignacio annuisce. Dobbiamo trovare delle prove. Petra intanto decide di affrontare Ignacio. Perché sei tornato? Gli chiede. Perché ora? Ignacio la guarda negli occhi. Ho saputo di Feliciano. So che era nostro figlio. Petra rimane in silenzio. Perché non me l'hai detto? Insiste lui. Perché sei sparito? risponde lei con voce rotta. Ero sola e spaventata. Ma cosa succederà ora che la verità è venuta a galla? Ignacio e Petra decidono di unire le forze per scoprire la verità sulla morte di Feliciano. Insieme a Alonso raccolgono testimonianze e cercano indizi. Scoprono che Cruz e Lorenzo avevano dei motivi per eliminare Curro e che la morte di Feliciano potrebbe non essere stata un semplice incidente. Nel frattempo Teresa è ancora sconvolta per la perdita del suo amato. Ricorda con nostalgia il momento in cui Feliciano le aveva chiesto di sposarlo. Voglio passare il resto della mia vita con te, le aveva detto, porgendole un anello. Teresa aveva accettato con gioia sognando una vita felice insieme. Ora quei sogni sono infranti. Petra cerca di confortarla. So che è difficile ma dobbiamo essere forti, le dice. Teresa annuisce. Feliciano avrebbe voluto così. Ignacio, Petra e Alonso raccolgono abbastanza prove per confrontare Cruz e Lorenzo. Sappiamo cosa avete fatto, dice Ignacio con tono accusatorio. Cruz cerca di negare. Non so di cosa stiate parlando, ma le evidenze sono schiaccianti. Di fronte alle accuse, Cruz e Lorenzo confessano il loro piano per eliminare Curro e ammettono la responsabilità nella morte di Feliciano. La notizia della loro colpevolezza si diffonde rapidamente. La tenuta è scossa dallo scandalo. Cruz e Lorenzo vengono arrestati e la giustizia sembra finalmente trionfare. Petra e Ignacio si sentono sollevati, ma il dolore per la perdita del figlio è ancora forte. Con il tempo, Petra e Ignacio iniziano a riavvicinarsi. Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo provare a costruire un futuro, dice Ignacio. Petra sorride debolmente. Forse hai ragione. Teresa pur nel dolore decide di andare avanti. Trova conforto nell'amicizia con Petra e spera che un giorno possa trovare di nuovo la felicità. Ma quali nuove sfide attendono Petra, Ignacio e Teresa? La vita alla tenuta continua. Alonso assume la gestione della proprietà e promette di portare cambiamenti positivi. È tempo di voltare pagina, dice ai dipendenti. Petra decide di restare alla tenuta per aiutare Alonso e iniziare una nuova fase della sua vita. Un giorno, mentre Petra e Teresa passeggiano nei giardini, vedono arrivare un visitatore inaspettato. È un vecchio amico di Teresa, venuto a farle visita. Il suo arrivo porta una ventata di freschezza e speranza. Ma chi è questo nuovo personaggio e quale ruolo avrà nelle loro vite? La storia si conclude con una nota di speranza. Nonostante le difficoltà e le perdite, i personaggi trovano la forza di andare avanti. La tenuta della promessa diventa simbolo di rinascita e nuove opportunità. La SOP opera. La promessa è un viaggio avvincente attraverso colpi di scena e segreti familiari intricati. Una delle teorie più affascinanti che circolano tra i fan riguarda la possibilità che Pia, un personaggio chiave, possa essere la sorella di Gianna Esposito. In questo approfondimento esploreremo i vari elementi che supportano questa teoria. Analizzando il passato di Gianna, le rivelazioni su Pia e le amiche familiari che si intrecciano nella narrazione. Gianna è una giovane donna che ha vissuto un'infanzia segnata da eventi tragici. Sua madre, Dolores, viene assassinata mentre cerca di fuggire con i suoi due figli, Gianna e il suo fratellino Marcos. Questo dramma non solo segna la vita di Gianna, ma crea anche una frattura profonda nelle relazioni familiari. Durante questo tragico evento, Dolores decide di separarsi dai bambini per proteggerli, ma questa decisione porta a una separazione definitiva. Gianna cresce portando il peso della perdita e del desiderio di vendetta per la morte della madre. Il contesto della storia è intriso di complessità emotive e segreti. L'idea che Pia possa essere la sorella di Gianna trova una base nelle dinamiche familiari intricate e nei misteri che circondano il passato delle due donne. Le esperienze condivise di perdita e trauma potrebbero legare le loro vite in modi inaspettati. Le rivelazioni su Pia Nelle recenti puntate della serie, Pia ha dimostrato un forte legame con Gianna, sostenendola nelle sue battaglie quotidiane. Questo legame potrebbe suggerire che Pia abbia una connessione più profonda con Gianna di quanto sembri a prima vista. Le rivelazioni sulla vita passata di Pia sono state parzialmente svelate. Si scopre che anche lei ha vissuto esperienze traumatiche legate alla sua famiglia. La protezione del figlio Un elemento chiave nella narrazione è il fatto che Pia ha un figlio, Dieguito. La sua determinazione a proteggerlo riflette il desiderio di Gianna di salvaguardare la sua famiglia. Questa connessione emotiva tra le due donne potrebbe essere ulteriormente approfondita se si scoprisse che condividono legami di sangue. Il segreto della maternità Rivelazioni sconvolgenti Un altro aspetto significativo è il mistero che circonda le origini dei personaggi. Recentemente è emerso che Petra, considerata la sorella di Feliciano, è in realtà sua madre. Questa rivelazione ha sconvolto le dinamiche familiari e dimostra come i segreti possano influenzare profondamente le relazioni tra i personaggi. Se consideriamo l'idea che Pia possa essere la sorella di Gianna, questo si inserirebbe perfettamente nel tema centrale della serie, famiglie spezzate e segreti inconfessabili. La scoperta di un legame fraterno tra Gianna e Pia potrebbe portare a rivelazioni scioccanti riguardo al passato delle due donne e alla loro vera identità. Collegamenti tra i personaggi Legami familiari al centro della trama Il fatto che Gianna abbia recentemente rivelato a Curro di essere sua sorella sottolinea come i legami familiari siano al centro della trama. Curro e Gianna sono fratellastri con una madre in comune ma padri diversi. Questa dinamica potrebbe riflettersi anche nel rapporto tra Gianna e Pia, suggerendo che entrambe possano avere una madre comune o legami familiari non ancora svelati. Pia ha sempre mostrato un forte supporto nei confronti di Gianna e ha condiviso momenti significativi con lei. Questi momenti potrebbero essere interpretati come indizi di una connessione più profonda tra le due donne, suggerendo che la loro relazione potrebbe andare oltre l'amicizia. In conclusione, sebbene non ci siano prove definitive nella trama attuale della promessa riguardanti il legame fraterno diretto tra Gianna e Pia, gli elementi narrativi suggeriscono una possibilità intrigante. Le esperienze condivise di perdita, segreti familiari e intrighi all'interno del palazzo creano un contesto in cui una connessione tra le due donne potrebbe esistere. L'idea che Pia possa essere la sorella di Gianna arricchirebbe ulteriormente la trama, portando alla luce nuove dinamiche familiari e conflitti emotivi. Con l'evolversi della storia, i fan della serie attendono con interesse eventuali rivelazioni che potrebbero confermare o smentire questa affascinante teoria. Approfondimenti sul mondo della promessa L'influenza dei segreti familiari I segreti familiari sono un tema ricorrente nelle sopa opera e la promessa non fa eccezione. Questi segreti possono avere conseguenze devastanti sui personaggi coinvolti, creando tensione e conflitto all'interno delle relazioni. Un altro aspetto fondamentale è l'importanza dei legami emotivi tra i personaggi. Questi legami possono influenzare le decisioni dei personaggi e guidarli nelle loro scelte, rendendo ogni interazione significativa. La dinamica del potere nel palazzo Il palazzo stesso diventa un personaggio nella storia, con le sue stanze piene di storia e mistero. Le dinamiche del potere tra i personaggi possono riflettere le lotte per il controllo all'interno delle famiglie aristocratiche. Aspettative future per la promessa Con l'evolversi della trama, ci sono molte aspettative su come si svilupperanno le relazioni tra i personaggi. I fan sono ansiosi di vedere se le teorie su Pia, come sorella Diana, si concretizzeranno o se verranno introdotti nuovi colpi di scena. Interazione con il pubblico La soap opera ha anche creato un forte senso di comunità tra i suoi spettatori. I social media sono pieni di discussioni sulle teorie dei fan e sulle anticipazioni delle puntate future, creando un'atmosfera coinvolgente dove ogni episodio è atteso con trepidazione. Riflessioni finali In definitiva, la promessa continua a catturare l'immaginazione del pubblico con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. La possibilità che Pia sia la sorella di Diana aggiunge ulteriore profondità alla narrazione già ricca della serie, lasciando gli spettatori a riflettere sulle connessioni invisibili che possono esistere tra le persone. Con il tempo che passa e gli eventi che si susseguono nel palazzo, non possiamo fare altro che attendere con ansia le prossime rivelazioni. Grazie a tutti.